A Palermo, teatro Politiama, ieri sera pieno di famiglie e istituzioni in occasione della giornata mondiale contro l'autismo. Morbillo, un altro casa a Catania, muore un bambino di 10 mesi, perde la vita per le complicanze legate alla malattia. Vertenza Almaviva, cessione ramo d'azienda del sito di Palermo, non sia la creazione di una bad company. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di sabato 7 aprile. A Palermo, ieri sera al teatro Politiama, famiglie e istituzioni in occasione della giornata mondiale contro l'autismo. Alla fine della festa dei diritti, tutti i partecipanti si sono spostati in piazza Politiama per accendere le fiaccole della speranza. Il teatro ed i monumenti della regione si sono illuminati di blu. La manifestazione è stata patrocinata dalla presidenza dell'Ars. Una giornata mondiale dell'autismo, una giornata di diritti, di rivendicazione, una giornata che troverà sintesi nelle battaglie dei punti realizzati e dei percorsi ancora da realizzare, una giornata in cui si esibiranno i nostri straordinari ragazzi speciali per dimostrare ancora una volta che sfilare l'autismo è possibile, una giornata di solidarietà, una giornata del diritto all'esistenza in vita per essere autistici. In questi anni intanto è cambiata la consapevolezza nei confronti dell'autismo, della conoscenza della patologia, del diritto di stare al mondo con una rete e servizi alle famiglie, alle persone con disabilità e con autismo nello specifico. C'è tanto da fare. Oggi sicuramente sappiamo tutti cos'è l'autismo, oggi sicuramente non è più una patologia rara, oggi sicuramente siamo nella consapevolezza, grazie anche a giornate come queste. Quest'anno abbiamo puntato così, abbiamo pensato con Rosi, occorre valorizzare ancora di più le risorse siciliane. Allora noi abbiamo tantissimi artisti siciliani che oggi sono veramente importanti, sono testimoni nel mondo di tantissime iniziative. Allora in una chiacchierata fatta qualche tempo fa con Rosi si è pensato senti ma noi abbiamo questi due straordinari artisti siciliani che sono Matrang e Minafo che ormai fanno parlare di loro con milioni di follower, milioni di twitter e su facebook. Allora giochiamo in casa e facciamo lavorare i nostri artisti che poi non è un lavoro, è un lavoro sociale, lavoro è, impegno per tutti e quindi viva la Sicilia, vive i nostri siciliani. Noi siamo orgogliosi e fieri di partecipare a queste manifestazioni che si organizzano nella nostra città perché regalare un sorriso a questi ragazzi è un regalo che per noi è grandissimo. Farete fare un giro della piazza? E appunto vedere, farli rombare insieme a noi, dargli questa emozione è veramente bello. Guarda io spero che diventi una moda accendere i riflettori sull'autismo perché veramente le famiglie che vivono questo problema vanno aiutate, io non so più come spiegarlo, sono 16 anni che faccio queste battaglie. L'autistico è sostenuto a 360 gradi dalle famiglie, io pregherei alle istituzioni di capire che serve un sostegno alle famiglie perché le famiglie oggi non ce la fanno più. Chi è fortunato magari può permettersi di stare meglio ma veramente tante famiglie non possono andare a mangiare una pizza perché devono lasciare una persona a casa che guarda il figlio, andare in vacanza non ci possa andare perché il figlio potrebbe dare problemi. Purtroppo ci sono tante sfaccettature dell'autismo che nessuno conosce, però vi prego le istituzioni dovrebbero fare qualcosa di più. Lei si immaginava un evento così partecipato a Palermo? Ma io so che Rosi Pennino per l'autismo ha fatto parecchio e so che questa manifestazione è molto sentita e come vedo ho visto quando sono arrivato fuori già c'è un 2000 persone perciò bene, sono contento, queste cose ci riempiono il cuore. È una missione importante, non solo per oggi, penso si dovrebbe fare sempre una cosa così. Onorati di fare questa cosa, più di molte altre, è una bella cosa, è una bella manifestazione a cui avremmo voluto partecipare anche prima ma siamo contenti di farla adesso. Bella, bella cosa, queste sono le cose che ti fanno piacere e che ti fanno sentire palermitano bello, cioè bene palermitano. Sì, queste sono le belle cose e le belle organizzazioni che dovrebbero essere in città sempre più spinte e sempre... Anche perché non ci mancano i teatri, non ci mancano gli attori, non ci manca nulla. Morbillo, un altro caso a Catania, muore un bambino di 10 mesi, perde la vita per le complicanze legate alla malattia. A contagiarlo sarebbe stata la madre non vaccinata. Ancora Morbillo a Catania e ancora un caso mortale. Stavolta, ad avere la peggio, è stato un bambino di 10 mesi morto all'ospedale Garibaldi di Catania. Sembra che il bimbo non fosse stato vaccinato poiché è ancora troppo piccolo. Il bambino era stato ricoverato ad Acireale e trasferito poi nel capologo Ateneo per l'aggravarsi delle sue condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. Non ci sono al momento certezze sul fattore contagio, sottolineano i medici, ma la madre avrebbe contratto il Morbillo. Il bimbo non era in età da vaccino contro il Morbillo, parotite, rosolie e varicella, previsto dopo i 14 mesi, anche se era giudicato particolarmente fragile, poiché cardiopatico dalla nascita e con un peso corporeo di 7 kg. Il bimbo era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo scorsi nel reparto di pediatria dell'ospedale Garibaldi Nesima per una broncopolmonite e bronchiolite in presenza di un virus respiratorio sinciziale. Era stato dimesso, migliorato con un programma in controllo a distanza di 10 giorni. Poi si era aggravato ed era stato ricoverato nella rianimazione del Garibaldi Centro. Nella stessa struttura quest'anno si sono registrati altri due decessi. Il 26 marzo è morta la 25enne Maria Concetta Messina, i cui familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri e il 22 gennaio ha perso la vita un 42enne affetto da una grave forma di immunodeficienza. Nell'ultimo bollettino del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie, la Sicilia è indicata come la regione con la più alta incidenza di morbillo e rosolia. Ed i casi di morbillo a Catania, dall'inizio dell'anno, ne risultano infatti più di 218 e 10 di loro riguardano donne in stato di gravidanza. Esiste in questo momento un caso Sicilia per il morbillo? A dirlo sono i numeri. Dall'inizio del 2018, oltre la metà delle infezioni registrate a livello nazionale si sono avute proprio nell'isola ed in particolare all'ospedale Garibaldi di Catania. La conferma che si tratti di una situazione preoccupante arriva dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, il quale avverte non solo la Sicilia, dove oggi è morto un bimbo di 10 mesi a causa del virus, ma tutta l'Italia è a rischio per il morbillo. In questo momento, prosegue Ricciardi, c'è nell'isola una situazione acuta per il numero di casi. C'è dunque un caso Sicilia perché proprio in questa regione si è avuta la maggioranza delle infezioni dall'inizio del 2018. Tuttavia tutta l'Italia è a rischio. Follia all'uscita da scuola. Padre picchia professore e gli provoca un'emoragia cerebrale. È accaduto davanti l'Istituto Abba Alighieri di via Marturano a Palermo. Brutta disavventura per un professore dell'Istituto Abba Alighieri di Palermo che sarebbe stato picchiato e ferito gravemente dal padre di una studentessa. Il docente, di 50 anni e ipovedente, sarebbe stato colpito con un pugno al volto. Poi il trasporto in ospedale dove gli è stata riscontrata un'emorragia cerebrale. Nelle scorse ore i medici hanno sciolto la prognosi giudicando il paziente guaribile in 25 giorni. Sull'aggressione al momento sono in corso le indagini della polizia. Secondo quanto hanno ricostruito gli agenti, il professore durante le ore di lezione avrebbe ripreso l'alunna. All'uscita della scuola la ragazzina ha riferito al padre che l'insegnante l'avrebbe picchiata. A questo punto il genitore si sarebbe avventato sul docente e senza farlo parlare gli ha sferrato un pugno in faccia che lo ha fatto stramazzare per terra. Solo dopo l'intervento di altri insegnanti e genitori la situazione sarebbe tornata sotto controllo e l'aggressore si sarebbe scusato per il proprio comportamento, anche perché la figlia avrebbe rettificato il suo racconto ammettendo di non essere stata picchiata dall'insegnante ma solo allontanata dall'aula. Il professore, visibilmente sotto shock, è stato trasportato all'ospedale civico dove i medici lo hanno sottoposto ad un attac che ha evidenziato un'emorregia cerebrale e una frattura allo zigomo. L'aggressione è stata segnalata agli agenti della squadra mobile che, referto in mano, stanno procedendo nei confronti del genitore violento. Stanziati dal governo regionale circa 265 milioni di euro per il 2018 a garanzia delle attività di prevenzione antincendio, decisione adottata dall'esecutivo del presidente della regione siciliana, Nello Musumeci. Il nostro sindacato, dichiara Giuseppe Messina, segretario regionale dell'UGL in Sicilia, aveva già anticipato che l'impegno assunto nei mesi scorsi dal governo Musumeci non è stato mai messo in discussione. Un segnale assolutamente positivo, conclude il sindacalista, per la categoria dei forestali che per la prima volta potranno essere avviati al lavoro entro i termini previsti di legge e fatto storico se si vede ai ritardi degli ultimi anni. Vertenza Almaviva, cessione a ramo d'azienda del sito di Palermo. Non sia la creazione di una bad company. Ce ne parla in dettaglio Claudio Marchesini dell'UGL Telecomunicazioni. Cosa che comunque non ci trova impreparati, perché chiunque oggi può cadere dal pero, dalle organizzazioni sindacali e alla politica, ma è un qualcosa che si sa da almeno cinque anni che questa sarebbe stata la fine. Perché nel 2013 quando si firmarono gli ammortizzatori sociali, noi come UGL e l'RSU in Sicilia non firmarono l'accordo nazionale per l'inizio degli ammortizzatori sociali, che è vero ci hanno fatto campicchiare, ma a sonne di lacrime e sangue sia sul salario sia sui diritti dei lavoratori. E comunque si sapeva che gli esuberi strutturali non sarebbero mai rientrati. L'azienda ci ha prospettato un rilancio che dovevamo investire di nuovo su Palermo, che dovevamo portare avanti delle nuove cose. Fatto sta che con questa nota che ci hanno fatto significa per noi il preludio di una lenta sofferenza, ma di una certa chiusura. Perché non vediamo altre alternative, perché gli esuberi ci sono, sono strutturali e con questa operazione che l'azienda vuole fare li caricherà interamente sul territorio palermitano e non distribuiti in tutta Italia. Ma per fare capire a tutti, che cosa succederà? Ma succederà, io mi auguro che non succederà intanto, e che riusciamo a scongiurare questa intenzione che ha prospettato l'azienda. Noi speriamo che l'azienda torni indietro sui suoi passi, perché societarizzare, cioè mettere un SRL su Palermo e quindi scollegarla dal resto di Almaviva Contact, mantenendo loro le commesse di proprietà, quindi potendole cambiare quando gli pare piace e riportarle dove vogliono, mettiamo in ordine che questa azienda ormai delocalizza come tutte le altre, sono in Romania presenti, sono in Brasile, sono dovunque, dove fanno anche all'estero mercato italiano. E quindi per noi questa è una cosa di una gravità assoluta. Sicuramente non possiamo dare il peso soltanto alle aziende e alle imprese, perché noi viviamo uno Stato italiano che è il più alto al mondo come tassazione, quindi ci rendiamo conto che la politica non aiuta nessuno. Noi aiutano ancora di più oggi che non abbiamo neanche un governo nazionale con cui poter interloquire, è un'interlocuzione che abbiamo avuto già con la seconda commissione bilancio, già ci hanno allargato le braccia dicendo che qua i soldi non ci sono, gli ammortizzatori stanno per finire, c'è soltanto la prospettiva di qualche centinaio di milioni di euro sulla digitalizzazione per la riconversione. Ma ci riconvertiamo per cosa? E chi ci prende con la riconversione che ci hanno prospettato alla commissione bilancio l'altro giorno. Fra l'altro noi come Ugella abbiamo fatto una nota già a marzo al presidente Musumeci, dove noi indicavamo tutto quello che stava succedendo e che poi è successo. E quindi le istituzioni sono state ampiamente informate, al momento non vediamo belle prospettive, perché la politica per noi è assente, sicuramente a livello nazionale e a livello regionale ancora non si è presentata, quindi faremo un esame congiunto che è stato richiesto con l'azienda, con tutte le organizzazioni sindacali e di lì vedremo cosa uscirà. Noi sicuramente come Ugella siamo assolutamente contrari a portare avanti un'iniziativa del genere. In contrada a Rossella, nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo, è presente una struttura imponente, grande, migliaia di metri quadrati, composta da due edifici e un cortile esterno. L'impianto industriale indissuto, pensato per le produzioni di fertilizzante, costato all'epoca circa 40 miliardi delle vecchie lire, oggi è un vero e proprio ecomostro che domina la zona periferica della città. La denuncia di Sabrina Figuccia, consigliere Udc al comune di Palermo. Questa mattina mi trovo qui in contrada a Rossella, nel quartiere di Borgo Nuovo, un centro abitato, ci sono una serie di unità immobiliari e residenziali e qui abbiamo trovato quella che una volta doveva essere una struttura che si sarebbe dovuta occupare di smaltimento dei rifiuti, la cosiddetta Biofert. Una struttura davvero imponente, che costa di diverse migliaia di metri quadrati, costruita intorno agli anni 70 e costata all'epoca circa 40 miliardi di vecchie lire. Oggi la struttura si presenta come un vero e proprio ecomostro, composto da due grandi edifici, a suo tempo adibiti alla produzione di fertilizzante. Oggi invece la struttura è stata completamente vandalizzata, al suo interno infatti possiamo vedere impianti elettrici totalmente inesistenti, mura distrutte, pavimentazioni davvero divelte che sembrano quasi oggetto di un vero e proprio bombardamento. Ma la vera, triste scoperta che abbiamo potuto fare entrando all'interno, semplicemente varcando il cancelletto di ingresso aperto a chiunque è quello che abbiamo trovato sul retro della struttura. Un'area adibita a deposito divenuta oggi una vera e propria bomba ecologica, piena zeppa di amianto. Questa mattina stessa scriverò al prefetto affinché lui stesso possa venire qui in sopralluogo a constatare il gravissimo stato dei luoghi e affinché si intervenga tempestivamente chiederò un incontro ufficiale a tutti gli organi competenti affinché venga rimossa immediatamente questa vera e propria bomba ambientale e affinché ci si adoperi immediatamente per riqualificare e bonificare questa zona della città. Una serata carica di sensualità e passione con ballerini e musicisti straordinari. L'appuntamento è per stasera alle 21 all'auditorium della ex chiesa di San Mattia ai crociferi a Palermo. Un evento denso di musica arte ma anche tanto cuore perché pubblico, musicisti e ballerini contribuiranno alla raccolta fondi Facciamo Squadra Insieme, progetto del Rotary Club Palermo Teatro del Sole per la realizzazione della prima scuola di mini basket in carrozzina in Sicilia. Stasera il Club Teatro del Sole del Rotary organizza un concerto all'auditorium San Mattia dei Crociferi alla Calza per una raccolta di beneficenza per un progetto che stiamo portando avanti. Il progetto si chiama Facciamo Squadra Insieme e ha come obiettivo raccogliere i fondi per costituire la prima squadra di mini basket in carrozzina del Sud Italia. È un progetto a cui teniamo tantissimo, stiamo lavorando in tanti, un progetto che portiamo avanti insieme alla Ollus Morvillo di Palermo e che riuscirà sicuramente a portare non dico ora ma in futuro uno dei nostri attreti alle Paralimpiadi speriamo. Come è nata questa idea particolare? La scintilla è stata Denny Caminiti che è un membro del nostro club che ha suggerito al nostro presidente Paolo Loiacono questa iniziativa. Devo dire che l'abbiamo raccolta in tanti e abbiamo fatto squadra insieme. L'appuntamento dicevamo è stasera alle 21, tutti possono partecipare? Sì possono partecipare, c'è un biglietto di 14,50 euro che va totalmente in beneficenza oltre alla presenza del Sieg Quartet Tango che vengono dal nord Europa totalmente senza aver pagato cachet ci sarà la presenza anche di due maestri tanghieri che si esibiranno dal vivo. Io ho visto la scorsa la scorsa volta l'altro ieri lo spettacolo ed è molto emozionante. Il progetto avrà un proseguo andrà oltre questo anno rotariano perché contiamo attraverso il MIUR con la collaborazione delle scuole di promuovere questo sport in mini basket in carrozzina per ragazzi che frequentano gli istituti di secondo grado di prima e secondo grado e che vogliono accedere alla formazione di questa squadra. L'obiettivo è quello di avere una nuova squadra di minori in quanto esiste a Palermo solo la squadra di basket in carrozzina ma per adulti. Infatti molti ragazzi si allenano con gli adulti ma non possono partecipare agli eventi promozionali, di finali, insomma tutto quello che li può fare sentire partecipi in questo sport. Ecco l'inclusione, l'inclusione sociale che avviene attraverso lo sport, attraverso tutte quelle attività che permette ai giovani di uscire fuori dall'isolamento e che si possano sentire uguali a tutti gli altri. Sport che tra l'altro sarà il centro di altri vostri importanti appuntamenti del mese di maggio. Abbiamo avuto per fortuna tanti sponsor e tanti patrocini. Noi avremo intanto questa sera la seconda serata al San Mattia, come ha detto il mio collega, al San Mattia dei Crociferi. È stata la prima serata veramente emozionante quindi invitiamo tutti quanti a venire questa sera. Il prossimo appuntamento sarà il 22 a Goldene con tantissimi artisti locali e poi avremo tre giornate il 25, il 26 e il 27 al Conca d'Oro che ci darà uno spazio, che darà uno spazio a tutti, non solo a noi, noi per la raccolta fondi ma a tutti gli sportivi che vorranno partecipare ma anche proprio a livello di gioco non sarà una giornata di tristezza. Il 26 tanti giocatori di basket o di hockey in carrozzina si alterneranno in un percorso ma anche in uno spazio. Noi teniamo molto a ringraziare i nostri sponsor. La cosa bella è che la GESAP, grazie al Presidente Fabio Gembrone, ci ha dato uno spazio all'aeroporto dove il Rotary Club Teatro del Sole installerà una teca per la raccolta fondi. Grande attesa per il 14esimo concerto di Pasqua del coro Laudate Doniminum Pueri Cantores e corale polifonica diretto da Salvatore Di Blasi che si svolgerà domani alle 19 nella splendida cornice settecentesca della Chiesa Maria Santissima Immacolata detta Anime Sante a Bagheria. Il 14esimo concerto di Pasqua, credo uno dei più lunghi di Sicilia ormai perché il concerto pasquale effettivamente è un po' difficile da portare avanti perché il repertorio a differenza di quello natalizio è più complesso e più nutrito musicalmente. 14 anni fa abbiamo ideato questo concerto, il primo non lo posso dimenticare, inaugurammo la cappella esterna del Giardino Storico di Villa San Catallo il giorno di Pasqua di 14 anni fa e poi per anni successivi ebbe tradizione a conclusione della Settimana Santa al Sepolcro e da alcuni anni è un po' itinerante e quest'anno, anche quest'anno sarà qui nella Chiesa dell'Immacolata di Bagheria che per, credo questo è il quarto o il quinto anno addirittura che viene fattuta in questa chiesa. Importantissimo momento musicale per Bagheria, rientra nella stagione concertistica la seconda città di Bagheria, questo è il quarto concerto in cartellone e prevede la presenza ovviamente dei cori laudate dominum sia pueri cantores che adulti polifonico, abbiamo come ospite il soprano Teresa Stagno, l'orchestra da camera dell'associazione Bequadre che è composta da Salvatore Ferraro e Antonio Facella Oboe, Aldo Riveri e Sergio Di Vittorio Tromba, Daniele Labbatecorno, Nicola Battagliofonio, Giuseppe Baldone Trombone, Jacopo Brignone Violino, Federico Castelluccio Violino II, Antonio Tralongo Viola, Cristian Barraco Violoncello, Cristina Ciulla Pianoforte. Il repertorio è particolare, è importante, ho cercato di fare un ripercorso dal Cinquecento fino a Musica Moderna, da Regina Celidi ai Kinger nel Cinquecento fino a Marco Betta che è un autore, compositore e anche docente di cattedra di composizione del Conservatorio di Palermo e ovviamente per me indimenticabile Monsignor Giuseppe Liberto che è direttore emerito della cappella musicale pontificia detta Sistina che per quindici anni ha diretto il coro del Santo Padre e ci sono anche dei brani miei inediti sulla Santa Pasqua quindi musicalmente raccontiamo nella storia e nel tempo la Pasqua, raccontarla per quattordici anni è complesso e mi rendo conto che ogni anno a differenza del Natale è sempre più complicato perché appunto il repertorio è molto nutrito, però devo dire che il lavoro effettuato dei cori sia dei fanciulli e tutti la data domina è lotevole, pregevole ed è musicalmente imperdibile. Ma non potevo dire di no a questa iniziativa proprio perché non solo la Chiesa negli anni ha sempre coltivato e costudito le arti ma anche la musica bene esprime il tesoro della Chiesa che è l'Eucaristia, che è la risurrezione, che è il Cristo Signore e la musica riesce a suscitare e a trasmettere quei valori e quelle emozioni che sono intraducibili e le parole non bastano e quindi la musica supera le parole e trasmette direttamente l'esperienza. Allora mi è piaciuto e mi è sempre piaciuto proprio avere nelle parrocchie questa esperienza musicale come forma di promozione dell'uomo, come educazione dell'uomo, come formazione ai valori e anche alla fete. Anche per questa edizione è tutto, vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News. Grazie. Grazie.